Una montagna di debiti da saldare. Questa puntata dell'Economia senza segreti parlerà di quanti debiti a livello privato gli italiani stanno sostenendo e quanti invece lo Stato ha in carico pur non essendo presenti nei bilanci. In più daremo anche una veloce panoramica, una sorta di rassegna stampa, quindi questa trasmissione sarà più un commento ai vari articoli che ho letto tra il mainstream, quindi Sole 24 Ore, Milano Finanza, Corriere della Sera, Repubblica, Affari, Italia Oggi e via dicendo, sostanzialmente anche poi su alcuni argomenti che sono diciamo all'ordine del giorno, quindi l'inflazione piuttosto che anche la questione delle tasse. Quindi avrò cinque punti che vi analizzerò molto rapidamente e che cercheranno appunto di darvi degli spunti. Poi nei commenti ovviamente chi avrà bisogno di approfondimenti o di puntate speciali ovviamente chi farà delle domande precise, corrette e che hanno ovviamente un senso, ovviamente sarà compito mio o della redazione, cercare di darvi delle risposte. Perché ho voluto prendere in considerazione questi argomenti, soprattutto l'indebitamento? Perché ho notato anche nelle mie attività di consulenza che vi sia una forte, diciamo, ignoranza nel merito e soprattutto vi siano sempre state, purtroppo anche da parte di pseudoconsulenti, delle promesse di poter eliminare, stralciare completamente o in buona parte i debiti accumulati con Stato, con banche da parte di soggetti privati e quindi bisogna fare un po' di ordine e soprattutto un po' di chiarezza. Soprattutto perché parto da un esempio molto lampante, se vi ricordate una decina di anni fa alcune sentenze dei tribunali misero ovviamente in forte difficoltà il mondo bancario perché risultarono sostanzialmente alcuni mutui in usura e in anatocismo, cosa significa? È vietato sostanzialmente far pagare interessi su interessi nei vari finanziamenti e oppure i tassi applicati a seguito di ricalcoli fatti attraverso delle perizie sostanzialmente vedevano la banca usuraia e quindi all'inizio le banche diedero sostanzialmente, accantonarono delle somme per risarcire i vari conantisti, dopodiché ne vennero fuori dei business anche all'opposto, ovvero nacquero delle società che promettevano rimborsi a fronte di perizie giurate, le banche ovviamente che sono dei soggetti molto molto attenti a certe dinamiche, ovviamente preferirono anziché destinare i fondi accantonati a risarcimento, preferirono invece combattere in tribunale e nel frattempo grazie alle loro lobby modificare poi quelle che furono le leggi del calcolo dell'usura e dell'anatocismo e quindi fondamentalmente impedendo di fatto il rimborso che molte aziende, molti privati avrebbero avuto diritto. Ecco quindi siccome questo è un precedente che vi fa capire ben chiaro che è difficile combattere Davide contro Golia, però lo Stato in questo caso si è messo garante di determinate situazioni e in quale maniera. Quindi ho sostanzialmente visto un articolo del Sole 24 Ore di sabato, 7 ottobre, dove è stato fatto presente che ovviamente di fronte al rialzo dei tassi molti mutui sono in fase di mancato rimborso e quindi ci sono delle situazioni che a breve, dovute anche tra l'altro a leggi volute dalla BCE che obbligheranno le banche a liberarsi molto velocemente di questo debito non rimborsato, mentre prima le banche cercavano di temporeggiare il più possibile proprio perché per loro era un forte costo di patrimonio accantonato e ovviamente di ufficio legali, mettere all'asta le varie abitazioni, ecco che invece adesso per legge saranno obbligate a svendere, più che svendere chiedo scusa, a doversi sbrigare nel porre in esecuzione determinate situazioni. Quindi il privato soprattutto, ma anche le aziende, hanno a disposizione alcuni strumenti che adesso vi leggo che ovviamente devono essere valutate però da un consulente preparato, da commercialisti iscritti a degli ordini, quindi non a persone improvvisate che promettono miracoli, che non hanno soprattutto testimonianze dei risultati ottenuti. Anche i pull di avvocati che molto spesso arrivano a sprombattuto su questo boccone prelivato che ovviamente lo stato di bisogno delle persone, la volontà di non perdere tutto quello che si è giustamente creato nella propria vita, attenzione però che io suggerisco sempre di vedere da quanto tempo fanno questo mestiere e quanti risultati hanno ottenuto. Ecco le quattro strade che in questo momento sono a favore, diciamo, di soluzioni che impediscono il totale sproprio dei beni da parte del debitore, sono la ristrutturazione dei debiti che è sostanzialmente un accordo di ristrutturazione che non ha bisogno di assenso da parte dei creditori per essere omologata dai giudici. La liquidazione controllata invece è una procedura che può essere anche chiesta dai creditori nei confronti del debitore, il concordato minore che può essere utilizzato solamente in caso di professionisti, quindi non da consumatori, da imprenditori minori, da imprenditori agricoli, da startup innovative, anche qua deve essere approvato dai creditori. Mentre il caso più specifico l'esdebitazione è una procedura riservata alle persone che non hanno a disposizione nulla da offrire ai creditori ed è una procedura che però resta aperta per quattro anni durante la quale il debitore nulla tenente viene comunque monitorato dal tribunale. Normalmente queste procedure hanno comunque un iter che non sempre va a buon fine, quindi attenzione a vederlo come se fosse la panacea di tutti i mali. Ecco attenzione che quindi questo tipo di soluzioni per tornare in bonus, che tra l'altro tornare in bonus significa comunque avere diciamo la fedina penale creditizia che permette di nuovo l'accesso al credito, attenzione che comunque è sempre soggetto alla valutazione poi creditizia della singola banca. Quindi difficilmente comunque chi ha queste situazioni poi un domani avrà reale accesso al credito. Ecco una cosa importante per esempio vi faccio riferimento a quali sono i tassi attuali ai fini dell'usura che vengono applicati adesso per farvi capire che la soglia è molto alta e quindi in questo momento è praticamente impossibile pensare che una banca, una finanziaria, cada nell'errore che è stato fatto anni fa sostanzialmente di essere potuta diciamo citare per usura amato cismo. Per esempio un'apertura di credito in conto corrente fino a 5.000 euro il tasso dell'11,35 su base anno addirittura i tassi soglia sono al 18,75. Un credito finalizzato va dall'11,93 al 18% mentre i mutui arrivano dal 5,22 a un 10,53. Quindi capite che da quel punto di vista sicuramente, ho detto, la situazione attuale è molto 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 diversa. C'è anche da dire che dal mio punto di vista c'è un altro aspetto che in questo momento concorre purtroppo a creare una situazione di sovraindebitazione che è quella legata, e qua entriamo nel passaggio invece dell'indebitamento dello Stato, a quello che lo Stato ha ovviamente concesso durante l'epoca Covid ovvero i classi potenza di fuoco del governo Conte, ovvero tutte le garanzie che hanno assistito i finanziamenti, quelli fino a 30.000 euro e quelli superiori. Ecco che alcuni di essi ovviamente sono in forte problema di rimborso in quanto alcuni metà erano a tassi variabili. Dovete pensare, parliamo un po' di numeri, che il Fondo Nazionale di Garanzia, quindi gestito dal medio credito centrale, al 30 giugno dell'anno scorso aveva 220 miliardi di garanzie pubbliche, di quali però di queste garanzie accantonate ce ne sono solamente 24 miliardi, quindi abbiamo l'8% di garanzia. Quindi significa che qualora questi prestiti non fossero più rimborsabili da parte del debitore dovrebbe intervenire lo Stato. Ecco, la maggior parte dei piccoli prestiti è stato fatto a tasso fisso dell'1%, mentre, e sono terminati ovviamente i periodi di preammortamento, quindi quei periodi iniziali che davano la possibilità alle persone che hanno ricevuto l'importo di rimborsare solo gli interessi. Adesso non ci sono particolari criticità sui finanziamenti piccolini, ma è molto più complicata invece la situazione sopra i 250.000 euro, 130 miliardi di garanzie pubbliche della quale metà dei finanziamenti erogati è a tasso variabile. Quindi 8,3 miliardi, leggo, in questo momento sono state concesse alle start-up innovative, anche qua, quindi tra le garanzie date, i finanziamenti ottenuti e l'aumento dei tassi variabili, secondo il nostro punto di vista le garanzie che lo Stato dovrà pagare sono maggiori rispetto a quelle messe a riserva. Quindi questa situazione qua hanno determinato in questo momento un pericolo per i conti dello Stato, un pericolo ben superiore per esempio al rialzo dei tassi che dovremo pagare con il debito pubblico, tanto per per usare sempre questo spauracchio, ok? Debito pubblico, perfetto. In questo momento abbiamo delle problematiche di finanziamenti interni per la quale è necessario porre un rimedio aumentando quindi gli stanziamenti a garanzia da parte dello Stato. Ecco, un'altra cosa che ho voluto diciamo sottolineare in questo momento è il fatto che nel frattempo, parliamo di tasse in questo caso qua, lo Stato appunto va a caccia di risorse anche perché anche dal punto di vista di tasse c'è stato un momento diciamo di stasi, delle riscossioni dovute alle varie moratorie concesse durante il Covid. Ecco, adesso invece l'Agenzia delle Entrate ha sprombattuto, è entrato alla carica con impignoramenti su conti correnti e fermi di auto e moto. Quindi in questo momento ricordatevi che uno degli obiettivi che l'Unione Europea ci obbliga a rispettare è sostanzialmente il cosiddetto tax gap, cioè la differenza tra quello che lo Stato dovrebbe percepire e quello che invece non percepisce, quindi chiamiamola evasione. E ovviamente l'attività di riscossione deve seguire immediatamente dei parametri che in questo momento andranno a colpire fondamentalmente chi non ha aderito alla rotamazione e vedrà i propri indicatori espressi da, non so, incassi post, fatture elettroniche eccetera, sopra determinati parametri, quindi sostanzialmente ci saranno A, un attacco immediato a coloro che non hanno quindi aderito a delle agevolazioni, ok? B, invece un ulteriore attacco immediato per coloro che non rispettano alcuni parametri, i cosiddetti ISA, e quindi chi non si è adeguato a questi parametri vedrà immediatamente un'azione da parte delle, appunto, dell'agenzia delle entrate e dei vari concessionari. Ecco, una delle iniziative, ecco, parlo di due iniziative che il governo ha messo in piedi ma che purtroppo prontamente non sono ancora andate a buon fine, almeno così sembra. In uno, relativamente sempre ai debiti di cui vi ho parlato all'inizio, è il decreto d'Urso che permetterebbe al debitore di sostanzialmente, soprattutto per quanto riguarda debitori di mutui, quindi che vedono la propria casa mandata all'asta, l'obbligo, la possibilità, diciamo l'obbligo da parte del creditore e la possibilità da parte del debitore di poter riscattare questo debito qualora il debitore probabilmente abbia la facoltà di farvi fronte, con una procedura semplificata e con un aumento, se ricordo bene, del 5-10% di quello che era il prezzo che sostanzialmente la società che acquisisce i crediti, quindi la società che paga sostanzialmente la banca di questo credito, usufruisce di questo vantaggio. Attenzione, quindi l'obiettivo sarebbe ovviamente che quello che famiglie che hanno pagato per anni e anni mutui non si vedono buttate per strada. Dall'altra parte ovviamente il governo tentenna perché sapete perfettamente che facendo in questa maniera si dà adito fondamentalmente al fatto che nessuno poi abbia interesse a pagare integralmente un proprio debito e quindi si vada sostanzialmente a una situazione generica di saldo e straggio di qualsiasi posizione anche in bonus perché alla fine conviene occuparsene in questa maniera visto che il risparmio poi sarebbe considerevole. Quindi questo è il motivo per la quale il governo Meloni ha accantonato questo che sembrava un decreto molto molto imminente. Dall'altra parte invece una delle iniziative che sembra faccia parte del nuovo legge di bilancio, quindi in approvazione, portato avanti da Gusmeroli sarebbe sostanzialmente l'eliminazione degli acconti da parte degli autonomi, quindi finalmente non si pagherebbe più su un reddito presunto ancora prima di averlo prodotto e incassato, bensì invece una sorta di mensilizzazione che segue poi quelle che sono le scadenze IVA, quindi chi ha l'IVA trimestrale sarebbe un pagamento trimestrale, mentre per chi ce l'ha mensile è un pagamento mensile, solamente per aziende che hanno fino a 500 mila euro di fatturato che però permetterebbe ovviamente a queste realtà che quindi sono quelle che soffrono maggiormente la mancanza di liquidità, l'aumento dell'inflazione e tutte queste dinamiche che stanno veramente mettendo in forte crisi le aziende più piccole e che ovviamente avranno sempre meno accesso al credito. Ecco questa sembrerebbe un'iniziativa decisamente positiva nel tornare alla normalità. Concludo invece parlando proprio di inflazione con un'analisi molto interessante anche qua del Sole 24 ore in cui sostanzialmente si mette in relazione l'inflazione reale, quella che l'Istat comunica, da quella percepita da parte del singolo cittadino e questo è veramente molto interessante perché io stesso contesto le modalità con la quale l'Istat, il paniere sostanzialmente dei beni, viene ponderato all'interno dei parametri attraverso i quali viene stabilita inflazione. Perché è ovvio che ci sono dei parametri che devono incidere in maniera maggiore e questo è soprattutto quello che riguarda gli alimentari, la spesa, il carburante e l'energia. Non sappiamo perfettamente che se aumentano questi tipi di beni sono beni indispensabili, bene attraverso il quale le famiglie non possono non spendere soldi perché l'alternativa non c'è. Sostanzialmente uno non è che non può spendere, non può non riscaldarsi una persona, non può non mangiare, non può non pagare un affitto. Ecco capite che da quel punto di vista lì c'è una differenza tra l'aumento di queste voci piuttosto che all'aumento di altre voci che invece sostanzialmente uno può decidere di pagare o non pagare. Ecco per esempio anche per quanto riguarda i servizi sanitari la percezione aumenta soprattutto per la mancata disponibilità di visite nel settore pubblico. Quindi per esempio la spesa per la salute è un 1,7 reale percepita è un 10,7. Anche i farmaci stessi un aumento molto maggiore a livello di percezione. L'abitazione realmente viene considerato un aumento dell'1,8 in realtà è un 15,6 quella che è percepita. Sono tutti dati del sole 24 ore di lunedì 9 ottobre e questo è molto molto interessante perché cosa fa poi la famiglia nell'altra parte di fronte a questi aumenti? Quindi dovrà modificare le sue abitudini di spesa e quindi rinunciando ad acquisti e quindi rinunciando a dei consumi. La maggior parte lo ha già fatto il 54%, il 27% quindi dovrà farlo entro quest'anno mentre il 19% sostanzialmente è immune dall'inflazione attuale. Dov'è che ha dovuto ovviamente ridurre o modificare ridurre le spese? Il settore più colpito è quello della ristorazione, quella degli alimentari e dall'abbigliamento. quindi noi abbiamo capito che quindi la gente rinuncia ad andare al ristorante, in pizzeria, rinuncia a comprare dei beni alimentari magari andando al discount anziché in un supermercato normale ma soprattutto rinunciando ad andare a quelli che sono le botteghe di quartiere e l'abbigliamento che ovviamente la gente cerca di ottimizzare soprattutto nel caso abbia figli. ovviamente c'è una totale sfiducia affinché il governo possa porre in essere delle azioni a integrazione di questo mancato, di questo aumento dell'inflazione quindi di questo mancato potere d'acquisto. Ovviamente pochi sanno che c'è questo patto anti-inflazione che in realtà è un patto dal mio punto di vista che ha più senso da un punto di vista mediatico che concreto però vedremo, dipende da quante persone poi effettivamente, persone scusate, quanti esercizi, quante attività commerciali effettivamente terranno in considerazione questo patto per i prezzi che appliceranno ma sostanzialmente e qui concludo questa puntata vedremo fino a quando non ci sarà uno scarico importante di diciamo di richieste nell'ambito della trattativa salariale perché finché il potere di acquisto non aumenterà quindi finché gli stipendi i salari non aumenteranno purtroppo la tendenza che ormai è abbastanza evidente di un'inflazione che non tende a scendere secondo quei parametri. Ecco, fino a che punto il mondo dei lavoratori dipendenti sarà disponibile a sopportare e soffrire e assorbire questo aumento dell'inflazione? Fino a quando invece gli imprenditori potranno fornire, quindi aumentare i salari e gli stipendi ai propri dipendenti senza perdere altre tipologie di opportunità da un punto di vista di di mercato perché ovviamente un ribaltamento dei costi dei dipendenti deve essere ribaltato nei prezzi di vendita quindi è un po' una spirale viziosa e questo sarà il grande punto di domanda che secondo il mio punto di vista ci porterà avanti per tutto quanto il 2024. Con questa riflessione ho concluso se avete bisogno di approfondimenti sulle varie tematiche preciso che non mi occupo assolutamente e ne voglio saperne di sovraindebitamento e quindi non sarò sicuramente la persona che vi dirà da chi andare e come porsi se non con le indicazioni che vi ho già dato di far riferimento a ovviamente operatori qualificati quindi avvocati commercialisti che abbiano già da anni trattato il tema e abbiano ovviamente decine di clienti soddisfatti e disponibili anche ad una testimonianza in tal senso. Buona continuazione.